ciao sono il dottor max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata agli integratori alimentari ti leggerà i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali in base ai prodotti utilizzati in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie alle esperienze condivise in questo video esaminiamo l'integratore alimentare pro action double a cosa serve pro action double a un integratore appartenente alla categoria degli integratori di proteine è commercializzato in italia dall'azienda pro action srl informazioni commerciali titolare pro action srl concessionario pro action srl categoria di appartenenza integratori di proteine confezioni pro action double barretta 31 per cento cocco caramello espositore 20 x 60 g pro action double barretta 32 per cento cioccolato caramello espositore 20 x 60 g pro action double barretta 32 per cento nocciola caramello espositore 20 x 60 g indicazioni ideale come spuntino a metà mattina o metà pomeriggio per chi fa sport o anche per chi vuole mantenere una corretta alimentazione divisa in cinque pasti al giorno modalità d'uso si consigliano uno o due barrette al giorno descrizione e caratteristiche double barra una barretta proteica caratterizzata dall avere un alta percentuale 32 per cento cioè 19 g barra barretta nei gusti cioccolato e nocciola 31 per cento nel gusto cocco e arancia di proteine del latte ad alto valore biologico pochi carboidrati e pochi grassi avvertenze il prodotto va utilizzato nell'ambito di una dieta variata ed equilibrata di un sano stile di vita non superare la quantità d'assunzione consigliata non utilizzare in gravidanza e nei bambini o comunque per periodi prolungati senza sentire il parere del medico allergeni può contenere tracce di semi di sesamo uova arachidi frutta guscio e frumento ingredienti gusto cioccolato caramello proteine del latte 22 per cento ripieno di caramello 20 per cento sciroppo di glucosio grassi vegetali da semi di palma zucchero latte magro condensato zuccherato latte magro condensato zucchero sale emulsionanti tristi arato di sorbitano e lecitina di soia aromi naturali copertura di cioccolato al latte intero 18 per cento zucchero latte intero in polvere burro di cacao pasta di cacao lattosio emulsionante lecitina aroma naturale di vaniglia sciroppo di zucchero invertito agente omidificante sciroppo di sorbitolo idrolizzato di proteine del collagene 6,1 per cento crispies di soia al cacao 5,1 per cento isolato di proteine di soia polvere di cacao magro amido di tapioca pasta di cacao sciroppo di glucosio agente omidificante glicerina zucchero latte intero in polvere burro di cacao aromi emulsionanti lecitina di soia e lecitina di girasole gusto nocciola caramello proteine del latte 22 per cento ripieno di caramello 20 per cento sciroppo di glucosio grassi vegetali da semi di palma zucchero latte magro condensato zuccherato latte magro condensato zucchero sale emulsionanti tristi arato di sorbitano e lecitina di soia aromi naturali copertura di cioccolato al latte intero 18 per cento zucchero latte intero in polvere burro di cacao pasta di cacao pasta di cacao lattosio emulsionante lecitina aroma naturale di vaniglia sciroppo di zucchero invertito agente omidificante sciroppo di sorbitolo idrolizzato di proteine del collagene 6,1 per cento crispies di soia 4,9 per cento isolato di proteine di soia amido di tapioca sale agente omidificante glicerina sciroppo di glucosio olio vegetale di palma polpa di nocciola zucchero latte intero in polvere burro di cacao aromi sale da tavola iodato emulsionanti lecitina di soia e lecitina di girasole gusto cocco caramello proteine del latte 23 per cento ripieno di caramello 20 per cento sciroppo di glucosio grassi vegetali da semi di palma zucchero latte magro condensato zuccherato latte magro condensato zucchero sale emulsionanti tristi arato di sorbitano e lecitina di soia aromi naturali copertura di cioccolato al latte con proteine di soia 18 per cento zucchero burro di cacao isolato di proteine della soia latte intero in polvere pasta di cacao lattosio emulsionanti lecitina di girasole lecitina di soia aroma naturale di vaniglia sciroppo di zucchero invertito agente omidificante sciroppo di sorbitolo idrolizzato di proteine del collagene 6,6 per cento sciroppo di glucosio agente omidificante glicerina olio vegetale di palma zucchero aromi latte intero in polvere burro di cacao emulsionanti lecitina di soia e lecitina di girasole gusto arancia caramello proteine del latte 22,5 per cento ripieno di caramello 20 per cento sciroppo di glucosio grassi vegetali da palmisti e palma zucchero latte magro condensato zuccherato latte magro condensato zucchero sale emulsionanti tristerato di sorbitano e lecitina di soia stabilizzante citrato trisodico aromi naturali cioccolato al latte con proteine di soia 18 per cento zucchero burro di cacao isolato di proteine di soia latte intero in polvere pasta di cacao lattosio emulsionanti lecitine di soia e di girasole aroma naturale di vaniglia sciroppo di zucchero invertito agente umidificante sciroppo di sorbitolo idrolizzato di proteine del collagene 6,6 per cento sciroppo di glucosio burro di cacao agente umidificante glicerolo zucchero aromi naturali latte intero in polvere burro di cacao acidificante acido citrico preparato a base di estratto di carota agente di carica glicerolo estratto di carota antiossidante acido ascorbico emulsionanti lecitine di soia e di girasole fonte codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero di esserti stato utile iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo integratore alimentare esaminato ciao 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 ciao